Chi sono i più veloci di tutti? Siete voi, gemelli in ascolto, figli e figlie del Dio Mercurio, il Dio del pensiero, della mente. Quanta intelligenza sprizza e a quale velocità? Ogni tanto bisognerebbe fare pure qualche scelta fissa, bisognerebbe rimanere lì nello stesso binario, ma voi siete nati per quello, per toccare tutto, per guardare ogni spazio, quindi la mobilità, il cambiamento di idea vi premia, vi premia, vi premia, che meraviglia, viva i gemellini. Adesso andiamo a vedere questo 2019 cosa esorta, perché noi raccontiamo le esortazioni, noi individuiamo i punti di luce dello zodiaco, i pianeti, la loro posizione nelle costellazioni e cerchiamo di capire qual è il linguaggio per metterci il dito, perché il futuro ce lo creiamo istante per istante, quindi vediamo quali sono le esortazioni e incominciamo da un'esortazione forte che già da qualche anno, già dall'anno scorso, che viaggia nelle nostre dinamiche quotidiane, settimanali, quindi la nostra realtà in questo momento si sta colorando di questo archetipo gemellino ed è quello della rinascita, della trasformazione, anche per rottura, anche per perdita. C'è Saturno che pretende una resurrezione, quindi nulla può restare come qualche anno fa in questo periodo, quindi dai magari già qualcuno avrà vissuto, sta vivendo quel senso quasi di distacco doveroso, necessario, essenziale. Il distacco spesso non piace a nessuno, il distaccarci è come morire da una parte per risorgere da un'altra, ma la nostra vita è composta, è fatta di un continuo divenire, è un continuo rinascere, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, rinascono le nostre cellule, rinasciamo noi in tutte le nostre parti, quindi il simbolo è chiaro, bisogna rinascere, quindi distacchiamoci da qualcosa che ci stiamo portando appresso da troppo, troppo tempo e vedrete se vi distaccate si concretizzeranno delle belle opportunità, si riceveranno anche dei doni dall'universo, se cambiamo l'opinione, se cambiamo il punto di vista, se cambiamo quella traiettoria, ma è già da un po' che stiamo lavorando lì, quindi gemellini approfittiamone, d'altronde il linguaggio di Saturno è chiaro e sono linguaggi che cambiano il nostro percorso terreno, quando parliamo di Saturno e Giove sono pianeti lenti che quindi ci danno le coordinate per crescere, per maturare, ci presentano veramente quelle che sono le grandi sfide, quindi parola d'ordine, rinascita. E Giove, il grande Giove, l'espansione, la fortuna, la gioia, i grandi doni dell'universo, identificati dalla simbologia di Giove, il padre di tutti, si trova in sagittario, quindi dall'altra parte del vostro cielo, in opposizione, magari avete già sentito, eh problemini nelle coppie, nelle relazioni, un po' di senso di solitudine, ebbene io invece presuppongo il contrario, c'è Giove dall'altra parte, quindi se vogliamo toccare il massimo, se vogliamo espanderci, dedichiamoci ai rapporti, dedichiamoci anche alla fidanzatina, al fidanzatino che è single, si faccia carino in quest'anno, approfitti di questo passaggio di Giove, per i grandi contratti, per le opportunità di relazionarsi anche fra soci, per le società, tutto ciò che si fa in due, questo Giove lo vuole esaltare, è questo il linguaggio, quindi con un po' di entusiasmo, questa esaltazione sarà grandiosa, quindi è viva il fare le cose in due, c'è positività, ma ci vuole volontà, siamo noi che andiamo verso i nostri obiettivi e più siamo tenaci, prima li raggiungeremo, quindi Giove, la grande fortuna, vi dà un linguaggio chiaro, forza gemellini, e da marzo un grande evento in quest'anno è il passaggio di Urano definitivamente, dal cielo dell'Ariete a quello del Toro, quindi Urano per qualche anno si piazzerà alle vostre spalle, nel segno che vi precede, quindi vi chiamerà la vostra attenzione, periodicamente sarà il caso di fermarsi un attimo, voltarsi indietro e cominciare a levare dalla pendola, dalla cantina, tutte quelle cose, tutti quei sacchi che avevamo posteggiato per poi riguardarli, quindi cominciamo a fare pulizie, cominciamo a cambiare anche il nostro punto di vista rispetto alla realtà, perché sarà un passaggio in questi anni che vi stimolerà anche nel cambiare un punto di vista proprio anche a livello animico, comincerete a vedere le persone in maniera diversa, è un passaggio lento, molto costruito, Urano impiegherà sette anni a percorrere tutto il segno del Toro, così come fa con tutti i segni, però voi ce l'avete nella mistica dodicesima casa, quindi la casa astrologica alle vostre spalle, quindi lì un po' di magia e qualcosa di particolare che vuole riordinare il nostro percorso ci sarà di sicuro, quindi puntate i fari perché il vostro karma avrà da marzo in poi il desiderio di riequilibrarsi, ciò che abbiamo lasciato annodato in questi anni comincerà a voler essere sciolto, ok? Quindi prepariamoci e cominciamo a liberare tutte le scrivanie, tutte le cantine dalla robaccia vecchia, che meraviglia. Grande periodo, marzo-aprile con il passaggio di Marte, quindi decisioni, attività, iniziative, forza, sarà un periodo veramente, veramente elettrico, bisogna contare fino a dieci, ma le grandi scelte, le sei elezioni vanno fatte in quel momento lì, fra marzo e aprile, approfittando del passaggio di Marte. Giugno, grande mese dell'amore, giugno innamoratevi, ci sarà Venere fra le vostre stelline, quindi ricordatevelo, scrivetevelo nella vostra agenda personale nel periodo di giugno, con Venere in gemelli, i gemellini potranno farsi belli e farsi notare dal mondo e avere quel pizzico di fortuna in più. Quindi ricordiamocelo, ricordiamocelo, anche nel periodo di novembre è molto interessante viversi questa esperienza di Venere che vorrà portarci degli incontri interessanti, quindi a fine anno degli incontri che potrebbero essere interessanti, così come all'inizio proprio, nei primissimi mesi di questo 2019, quindi nei primissimi mesi cominciate a farvi un po' carini e poi a fine anno magari le notizie diventeranno ancora più interessanti. Quindi belli percorsi di Venere per voi in quest'anno, ricordatevi le esortazioni, rivedete il video, guardate anche il video del vostro ascendente, per chi lo conosce, perché è molto interessante, l'ascendente ci dà i mezzi, ci indica quali mezzi ci servono per raggiungere il successo. Il successo è dato dall'energia del nostro sole, quindi il nostro sole, il nostro segno zodiacale è il nostro successo in questo percorso terreno chiamato vita. Con l'ascendente ci accorgiamo quali sono i mezzi che ci consentiranno di raggiungere il successo. Quindi andate a rivedere i video e poi il linguaggio simbolico cucitelo alla vostra esperienza. Benissimo, e quest'anno come novità, prima di salutarci, volevo dedicarvi una frase, una frase particolare che ho selezionato in funzione del disegno degli astri intorno alla vostra costellazione, quindi proprio in base alle energie che riceve la costellazione dei gemelli, ho selezionato una frase molto molto interessante, una frase attribuita a Paolo Coelio, un interessante scrittore. Bene, la frase dice se pensi che l'avventura sia pericolosa, prova la routine, è letale. Questo per ricordarvi che in questi anni ci sono i grandi cambiamenti in corso e chi si ferma ha perso il suo treno. Quindi forza, forza, grandi cambiamenti e viva i gemelli ed evviva il 2019!